Un tavolo sul codice della strada, mi piacerebbe convocarlo già prima della fine di quest'anno. Stiamo cercando, nonostante abbiamo la manovra di bilancio a breve in aula, il decreto aiuti a breve in aula e numerosi decreti in scadenza, se riusciamo già settimana prossima, perché chi ha tempo non aspetti tempo, un tavolo per l'aggiornamento del codice che abbia gli enti locali, quindi i rappresentanti dei comuni e delle polizie locali, quindi lanci, e poi i due ministeri, oltre quello dei trasporti nodali, quello agli interni, penso alla polizia stradale dal punto di vista della prevenzione e della repressione, però anche quello della scuola, i dati che ascoltavo mi dicono che è fondamentale portare l'educazione stradale sui banchi, quantomeno delle scuole superiori, come informazione, dal mio punto di vista questo è un mio parere personale che porterò al tavolo, però intervenendo anche sulle sanzioni. L'altro paio di mani che è rendere identificati anche, non penso tanto ai ciclisti, ma penso al monopattino, che nella sua versione elettrica raggiunge velocità su strada e su marciapiede, ahimè, e basta vederlo quotidianamente, però questa è una richiesta della polizia stradale che mi sento assolutamente di condividere, rendere più sicuro anche la guida sulle due ruote al monopattino elettrico, casco, targa, chiamiamola come vogliamo, perché non ci può essere impunità, è giusto sanzionare gli automobilisti irresponsabili e le cronache di questo fine settimana, è chiaro che non sali su una macchina in sette, su questo puoi fare l'educazione stradale che vuoi, puoi mettere la prevenzione che vuoi, però questo mi sembra oggettivo. Qualcuno però si ritiene impunito, ecco, per metter l'identificazione anche per chi utilizza a sproposito alcuni mezzi che sono pericolosi sia per chi guida, sia per chi è a piedi. Io l'anno scorso andai in un ospedale milanese per problemi di carattere personale e arrivai una domenica mattina e parlai col primario del pronto soccorso che mi diceva, senatore, qua il problema dell'alcol non è solo sulle auto, qua se si guida ubriaco drogato al monopattino, io sono pieno di ragazzi spacciati.